E' questa alla capra? Capra! Ok, mamma prendi questa per la capra e tu prendi quella. Andiamo a dare alla capra, che non abbiamo ancora dato un nome a questa capra. Capretta! Vivi vuole darti a mangiare! E vuoi dare anche questo pezzettino? Dobbiamo cercare un nome per la capretta. Oggi che giorno è? Mi sa 6-7 ottobre. Siamo un'unica all'India e vi comincia 21 mesi. Brava Vivian, brava! Come fa la capra? Come fa la capra? Vivian, come fa la capra? Ma... Ma dai a mangiare, vuoi mangiare la capra? Dai a mangiare! No! Sì! Dai un bacio alla capra! Dai un bacino! Mua! I love you, capra! Ma lascia, sta mangiando! Dobbiamo lavare la capra? Sporca! 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 La capra sporca! La capra sporca! De嘛 la capra! Musica! Di più! La capra sporca! La capra! uppi! La capra sporca! Buame un bacio! La capra! La capra! Capra Capra Ti piace la capra? No, non è vero Ti piace la capra? Papà Sì o no? Ti piace la capra? Eh, Vivian Ti piace la capra? Papà Dambaccia la capra Dambaccia Dambaccia